mister rivincita mister ma gullo con chi stai parlando ragazzi con mister graziani stiamo giocando a fifa 22 in multiplayer online volevo dargli la rivincita mannaggia a te ma quale rivincita ancora una volta di vanti di essere un fenomeno ma no ma gullo povero ciccio signore e signori ecco il re del playstation plus gullo noi ti fiamo ciccio faccelo sentire ciccio gullo accidenti a te l'anno scorso ha aiutato tante persone a migliorare a fifa online e a foot che avevo detto primo non fare i fenomeni e secondo se perdiamo facciamoli in maniera dignitosa continua a perdere non c'è niente da fare il gullo non ha rivali non arrivare al console spenta forse dato che sei così forte ti sfidiamo a giocare in live sul canale twitch di playstation italia mister ha sentito lo faccio solo se ce l'è io sono già lì e mi raccomando allena di essere sveglio playstation